Matchball Firenze è protagonista a questo campionato italiano a squadra Lady 45, siamo a Città Sant'Angelo. Enrico Giugno come sta andando? Beh, direi bene, molto bene. Ieri abbiamo vinto 3-0, giocato due bei singolari, oggi cominciata bene con la nostra numero uno che non lascia scampo alle sue avversarie e niente, direi super positivo al momento. Siete già proiettati alla finale di domani? E ci speriamo, sì, certo. Cosa significa continuare a giocare a questa età e se può essere da sprono per i ragazzi soprattutto che iniziano a praticare questo sport? Beh, intanto lo fai con uno spirito, ovviamente diverso. Per noi che siamo state giocatrici da giovani, comunque poi quando entriamo in campo abbiamo sempre voglia di vincere, di lottare e questo forse dovrebbe essere di insegnamento anche a tante ragazzine giovani. E poi ti diverti, vai in posti nuovi, conosci persone, però insomma diciamo che lo spirito è molto più goliardico. Ecco, diciamo così. Poi quando si è in campo si lotta. Faccio una domanda anche sul movimento del tennis a livello nazionale. I maschietti sono in ripresa, le femminucce come la vede? Eh, succherà a noi, tira. No, scherzo. Eh vabbè, abbiamo avuto nel passato grandi giocatrici, adesso sì, è vero, il maschile è molto meglio, però arriveranno le ragazze giovani sicuro. Il torneo è bello, molto impegnativo, io considerando che sono over 50, gioco in una categoria di ragazzine, quindi sì, molto impegnativo, però molto bello, tutti incontri competitivi. Come sta andando? Ebbene, ieri abbiamo vinto 2-1, oggi la mia compagnia di squadra sta vincendo, dopo devo entrare in campo io e cerchiamo di accedere alla finale di domani, speriamo. Tra le tennis più rappresentative di questo torneo ce n'è un'altra padula che è anche lei fortissima, ecco come vi state trovando e come ve la giocate in campo anche? Beh, noi siamo state compagne di squadra per 4 anni, io ho giocato con lei a Firenze, poi per problemi diversi ci siamo dovute dividere, lei è in uno stato di forma strepitosa secondo me, in questo momento è molto molto forte. Chiudiamo, vi sentite anche come, non so, una macchina per spingere i giovani a avvicinarsi a questo sport o comunque non abbandonarlo? Assolutamente sì, se potessero vivere quello che stiamo vivendo noi adesso, allora tanti inizierebbero a giocare perché è una soddisfazione, ti metti in gioco, comunque dai sempre il massimo e non molli, questo è l'importante. E c'è la padula che mi fa la lingua lì dietro, eh, vorrei, eh sì, eh sì.